Quale cassetta? Quella maledetta! Dopo averla guardata, ricevi una telefonata e dopo una settimana... Bam! Sei stecchito! Morto! Pronto? Sette giorni! Sette giorni per cosa? Per richiedere una consulenza gratuita e cambiare la sua cassa malati, vede con i nostri premi potrà risparmiare fino al 20%. Guarda, comandante, mancano pochi chilometri all'accampamento. Soldato, non riesco a proseguire. Vado avanti lei. No, comandante, io non la lascio qui. Io la riporterò a casa. Vado avanti lei. Si salva, almeno lei. È proprio sicuro, sicuro? Vado? Sì, vada. Sto andando, eh. Sicuro. Buona fortuna! Ciao, Rana. Chi sei? Tu non mi conosci, ma io conosco te. Lasciami andare! Voglio fare un gioco con te. Ma sei un mostro! Ma io trovo che mattina mi devo avanzare alle 6! Non posso giocare a risico! Allora, monopoli. Però io mi prendo parco della vittoria. Mirko? Sì? Mi servono le immagini della videocamera di sorveglianza. Subito. Ok, abbiamo un sospettato. Dobbiamo solo trovare la targa. Ok, lassù in alto, la vedi? Zooma. Ingrandisci. Ok, zooma di nuovo. Ora taglia. Zooma. Definisci l'immagine. Capo, abbiamo la targa. compra! Capo, Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.